Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e questo gioco è Marroblo E più precisamente, oggi siamo nuovamente in un bellissimo Tycoon Che si chiama Bank Tycoon E come da nome, dovremo costruire la nostra banca Esattamente, ci siamo impegnati per cercare altri Tycoon Perché sappiamo che vi piacciono troppo Ce li chiedono tantissimo Cioè proprio il Tycoon è la cosa che ci viene chiesta di più E questo ci è sembrato davvero fighissimo Esattamente, per di più si fanno i soldi abbastanza velocemente Essendo una banca E quindi siamo felici anche noi Perché di solito dobbiamo restare due ore ad aspettare Mentre qua sembra che tutto sia un po' più veloce Allora, partiamo comprando un pochettino dei dropper come sempre C'è anche questo da 2,50 Sono già comparse anche le prime cose, hai letto? Sto leggendo infatti cosa tutto è Il Rainbow che sarebbe il tappetino, quello per volare Che è sempre bello Ma lo possiamo avere, è bellissimo questo Mi fatti un boletto? Te lo compro? Sì, subito Va bene Subito, voglio volare col tappetino Io adoro i tappeti volanti Non so perché, guarda Questo non ho mai capito come funziona Scusa un attimo Io non so perché Ascoltami Dimmi, dimmi Il mio cervello è andato a prendere il Rainbow Carpet Però il mio personaggio ha preso la molla Non so bene cosa sia successo Perché è capitan Jeff sulla spalla È colpa sua Comunque È colpa sua Io non ho mai capito No, no, vedi che adesso funziona Ah, ok Ti fa correre velocissimo Ma fa anche danno perché la vedo che fa del fumo No, perché siamo talmente veloci che facciamo il fumo coi piedi Facciamo fumare l'asfalto Non esiste come parola fumare ma mi piaceva Formula 1 Vuoi fare una gara? Vuoi fare una gara? Sì Allora, si parte da qua Vince da qui Ok Vince chi arriva all'angolo opposto della mappa prima Ok 3, 2, 1 Yeah Sono partita sul 2 Ma dove sta andando? Eh, non aveva questa parte Non aveva capito Niente, niente, niente Non ti ho capito Hai buttato la gara Ho vinto, ho vinto Ti avevo detto l'angolo opposto Quindi ha tutto lì in fondo Invece non mi hai capito Ma io pensavo l'altro opposto Quello lì davanti È più giusto Fa la strada dritta Vabbè Pazienza, pazienza Abbiamo un sacco di soldi Abbiamo già 900 Posso comprare il Denti di M Dropper Adesso c'è il Robux Dropper Cioè butta proprio delle specie di banconettine Uh, ebbè sì, i Robux sono soldi Quindi ci sta benissimo nella banca Giustamente Esatto E quello costa un pochettino Per quello dobbiamo aspettare un po' Però Ti voglio far notare una cosa Però cosa? Siamo armati di questa Uh, bella Vuoi andare a russidere qualche inglese assieme a me? Sì, andiamo, andiamo Allora, corriamo velocissimi con la molla Saltiamo Andiamo Puntiamo questo qua E zacchete Vai, ti do il colpo di grazia Ma è ignaro Non capisce neanche cosa è successo No, no, si era mosso Vai, corri, 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 corri Ammazziamo tutti una volta E poi torniamo al nostro E adesso poi saremo invasi di persone Che ci vogliono ammazzare Sì Ne sono sicura Scusi con or Cua Cua Hai fatto tutto tu Ok, perfetto Andiamo ce ne Corriamo via Corriamo via Almeno uno lo volevo uccidere anche io Ho capito Ma siamo rompiscatole Ma siamo rompiscatole Uh, questo è armato di spada Ok, sarà una sfida alla pari Guarda, guarda, ha già capito cosa andrà incontro Non ce la puoi fare Due contro uno Non ce la puoi fare What's up? Attenti che ci facciamo danni a vicenda Sì, sì, sì E questo è un braccio stranissimo È più forte infatti, vedi? Guardalo, guarda Vedi com'è forte Ti ho ucciso io Ti scraziato E vabbè Uccidilo Ok Penso di averti ucciso io Ho comprato il nuovo dropper Quello dei robux Guardalo Vedi che sono proprio banconotte piatte piatte Sì, sono le banconotte E valgono un sacco Belline, belline, belline Ti garantisco che fanno fare un sacco di soldi Allora io controllo se non arrivi qualcuno a vendicarsi Ti concedo Come giusto che sia Allora, hai un regalo tra Bank Walls, Moneybags e Bankfloor Eh... Scegli, scegli Non lo so Forza Quale vuoi dei tre? Le mura Le mura Le mura Le mura perché mi piace iniziare a vedere i taekun Che si costruiscono insomma Se sono basse Ti giuro che faccio di nuovo il giro e li ammazzo tutti Secondo me sono basse Perché mi devo sfogare quando mi fanno arrabbiare Vai Spim Le mura preferite Disgraziati Le mura preferite di Steph L'ammazzo a tutti Chi sei? Chi sei Genser29 Sto avendo dei problemi Chi sei Genser? A posto? Ti sei calmato? Abbastanza Ok Perfetto Però ogni volta che li rivedo mi rarrabbio Mi viene qua Voglio di usare la spada Stai calmo Stai calmo Non c'è bisogno di arrabbiarsi Vedrai che il prossimo saranno dei bei muri alti Non ti arrabbiare Stai calmo Stai calmo Ok allora Prendo i soldi Abbiamo 4200 Posso comprare Oh 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 Amico mio Eh no aspetta Non cercare rogne Che bello il tappeto però È davvero bellissimo Se l'avessi comprato invece di quella molla brutta brutta Esatto Adesso potremmo volare Adesso potremmo volare in giro anche noi Allora Devo dimenticare questi muri Quindi io provo a comprare questo Ok Ah sono dei money bikes in giro per il tycoon Dai Non male Decorativi No Li puoi prendere Sì E cosa ci posso fare Non lo so Cosa ci posso fare Però abbiamo i big money adesso Eh siamo ricchi Guardaci Guardaci Guarda come siamo ricchi Andiamo a fare un festino Facciamo un party come se fosse una discoteca No Siamo allora in una banca Ok Siamo dei seri impiegati di una banca Quindi comportiamoci bene Ok Smettiamola Smettiamola e comportiamoci bene Ok va bene Compro l'upgrade robux Lo so che tu vorresti tutte le cose estetiche Però fidati Sì infatti c'è mi sto annoiando a comprare questa produzione No fidati Questo qua potenzia gli altri due Io e il signor maielino ce ne andiamo Guarda No vieni a guardare No devi comprarmi qualcosa per convincermi Perché non torno Tieni Non torno Altrimenti Tieni Non me li puoi dare non servono a nulla Uffa Tieni lo stesso Uffa Me ne vado via Mi devo far perdonare Come? Ok Allora ti compro qualcosa Eeeh Pronta? No me ne va No 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 Vieni 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 Ti compro una cosa Voglio il tappeto Tieni Volevo il tappeto No il tappeto volante Non il tappeto del tycoon Scusami Tieni Grazie Finalmente Però non voli via Addio Torna qua È difficilissimo volare Lo so Infatti torna da me per favore Tornata Ok Eccomi qua Meno male Guarda quanti soldi Wow bello Vedi che conviene Te l'ho detto che conveniva fare questi dropper Perché adesso facciamo shopping srenato Tipo boom Uh bella questa sezione Bella Guarda 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 è solo l'inizio Boom Lo vedi? No cosa? Vieni Oh salve Ascolti Mi servirebbero 250 milioni di dollari Ah ah Per una casa per signor Maialino Me li può dare? Eccoli Grazie Eh grazie Vado a costruire la casa Sa come signor Maialino pretende un po' molto dalla vita Sì 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 Un po' troppo aggiungo io Un po' molto Il giusto tanto No 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 Comunque compro anche l'ultimo dropper Ok Dobbiamo fare i soldi E adesso c'è il conveyor room Che è molto carino Ok Praticamente separa la zona di produzione da questa zona Perché giustamente i clienti arrivano E mica si devono vedere tutte quelle dropper lì giganti E certo giustamente Mica devono vedere come si fanno i soldi Altrimenti si rifanno anche a casa loro E non gli servono più le banche E poi non vengono più in banca Cioè è giusto così È giusto così Guarda Ok Ah carino Quindi sarà tutto suddiviso in stanze In sezioni Esatto Molto carina come banca Esatto Davvero molto carina Te l'ho detto che si è bestata bellina Hai scelto proprio un bel tycoon È bellissimo Vai a sitting area Che cos'è? Tipo una zona per rilassarci Oh attenta attenta Scusi Scusi Se ne vada Ok l'ho fatto fuori Ma io ero distantissimo Avevo un'arma fortissima Secondo me Secondo me sì Avevo un'arma fortissima Mamma mia che cattivo Ma perché lo sblocchiamo anche noi? Allora Secondo cassiere Terzo cassiere E quarto cassiere Ok Sono prontissimi A raccogliere i 250 milioni di dollari Per signor maialino Bravi Lavorate bene No Vabbè No Dimmi che mi posso Oh mio Dio Oh mio Dio Che belli che siamo Che belli che siamo Di cosa sto aspettando In quella serie? I 250 milioni di dollari Per signor maialino E c'è fila? Eh no Però sono un po' lenti Vanno prodotti Capito E servono Sono davvero tanti Ci vuole tempo Mi piacciono tantissimo le piante Sono troppo carine Troppo carine Sì è molto bellina Come parte decorativa mi piace davvero tanto Sono felice Sono felice che ti piace E ho notato anche qui c'è un bellissimo By stairs Quindi avremo anche secondo piano Esatto Mi piacciono i take-un grandi Mi piacciono davvero un sacco Siamo pieni di soldi 27 mila Wow Allora Cosa prendiamo? Secondo piano Secondo piano Assolutamente Ignoro il new part Lo vediamo dopo Aspetta Ma lì sono apparse delle cose Ma qua non c'erano La moto L'arco Golden rope Non so cosa sia E fusion blaster Questo sembra davvero cattivissimo Allora Questo sembra davvero cattivissimo Io voglio provare Ma com'è che in una banca è pieno di armi? Questo Ah questa è la balestra Per difendersi dal male intenzionati Allora per vedere Non è una balestra normale È una balestra con frecce che esplodono Vedi? Infatti te ne ho tiratone in faccia Sì sì ma tolta non fa molto danno Vedi? Infatti sì non ne fa molto È divertente però perché fa le esplosioni Esatto Esplodiamo Tutto Tutto Allora torniamo alle cose serie Ok Secondo piano Ok Muoviti Muoviti Scale Ok E secondo piano 4.900 Terzo piano 15.000 Uh bello Però scusa Siamo appena arrivati Pensiamo al secondo piano per adesso Quindi nuova produzione anche qui sopra Sì Che ci permette di fare un sacco di soldi Bellissimo Ne ho comprato due Speriamo che aumentino un sacco il guadagno di soldi Sì anche perché poi il terzo piano costa parecchio Quindi Esatto Sicuramente le cose vanno molto ad aumentare Guarda come è diventato qua che bellino Oh che carina Io voglio provare Questa Sì Ah Uh il monopattino Andiamo Io vado già in giro senza di te Ciao Uh 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 Sei volato Non ho idea quanto Wow Voglio provarlo È troppo bello il monopattino Voglio provarlo Ogni volta che lo danno mi diverto troppo Voglio provarlo Perché poi è il monopattino col motore Cioè lo vorrei nella realtà Questa cosa Sarebbe bellissimo Ma te l'immagino andare in giro così Bellissimo Uh come è salto 65.000 Shopping Allora new path Uh bellino Bellino Sembra sabbia però Però è bellino Ci sta bene questo colore Mi piace Andiamo su andiamo su andiamo su E ora del terzo piano Andiamo Bim Ok Scala in automatico che sono qua E guarda quanta roba c'è da comprare Wow Ma scherzi Allora Mystery face Tipo Ah Ah le faccine da provare Ma questa è un po' da scagnozzo Questa è la faccia da ladro però Ma esci Compre le tute Allora Poi abbiamo La voglio provare La voglio provare Tu sarai bruttissima Mamma mia Carinissima Uh questa Questa è la mia faccia perfetta Aspetta Aspetta Così Questo è davvero cattivo Guardami Questo è davvero cattivo Col pure il monociglio Davvero cattivo Guarda Tu ti siedi qua con questa faccia E con questo cappello Parli con i clienti E io con questa Con questi Con i clienti importanti Guarda Salve Mi guardi E l'ho già guardata Mi guardi di nuovo Guardi sono pronta a parlare Con tutti i clienti Benissimo Ok Allora Poi ti compro un finish wall Ok Ma Wall Ah sotto Ah ok ok Allora andiamo a vederlo da sotto Scusa un attimino Capisco Aspetta anche il carpet Ah c'è una cosa qui dietro è apparsa Vi vedi qui sotto 13.400 Ah no c'era anche prima Decorate bunk walls Oh mamma mia Cosa ci metteremmo come decorazione Bellissimo Guarda come è diventato bello dentro Eh guarda il tetto su Lo vedi il tetto in vetro Fammi vedere Guarda in alto Bellino Vedi è bello Sì è molto bello È comparsa una sign qua Ok Che cosa fa Forse fuori Fuori Sì guarda là È bellissima Eh vedi questo è davvero Banchieri Banchieri Non capisco le scale Ancora all'in alto Però vabbè dai Perché probabilmente Prendendo quell'altro wall Decorate walls Adesso compare qualcosa Che ha senso con quelle scale Proviamo perché ce li ho Ok 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 Spero che non ci sia molto altro A comprare Perché abbiamo proprio Zero 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 Appena compriamo quello Preparati Vediamo che cos'è Vediamo Eh Ah poi il tetto Ok le scale quindi portano al tetto Ok ok Abbiamo fatto uno spuntino Per aspettare un pochettino E abbiamo fame Più di così basta 120.000 Quello che ci esce Ci esce sinceramente Perché davvero Ogni tanto esagerano In questi tycoon E mettono cose inutili I soldi andrò per farti restare Più tempo Capito E noi siccome siamo più furbi Non ci caschiamo Ma io direi di vedere Cosa sono questi mystery package No io voglio Finirlo esteticamente Esatto ok Perché sinceramente Mi importa molto E già così Sono volati via un sacco di soldi Però È finito Ok Bellissimo A questo punto sì Quale vuoi? Scegli un colore Eeeh Non lo so Questo Questo blu Questo blu Sai che è quello che volevo fare io? Uh Oh mio dio Ma scherzi Datemelo Datemelo Ma Ma Non si può prendere E allora che sei No Oh mio dio Sono bellissima Oh mio dio Sono bellissima Ma non abbiamo le gambe Vedi che siamo uno scheletro? Sì Sono bellissima Da fuori davvero bello Te lo dico già È bellissimo Mi piace molto Mi piace molto Soprattutto perché è gigante E quindi le banche devono dare l'impressione Di essere un edificio enorme È bellissimo Mi piace davvero un sacco Questo tecuno è stato davvero carinissimo Non l'abbiamo finito giusto perché davvero Le ultime cose erano inutili E dovremmo restare qua altri 40 minuti Dato che ci siamo già un'ora e dieci Giusto per dire Molto carino Cercheremo ancora di trovare altri tecuno Lasciateci tanti like se volete appunto vedere altri tecuno Ne cercheremo altri molto carini Non è facile trovarli Però ce ne sono Sono nascosti nei meandri di Roblox Infatti bisogna guardare bene tutte le mappe Non farsi ingannare delle copertine delle mappe E provarle perché alcuni davvero Anche se non te li aspetti Sono molto molto carini Esatto Quindi sarà una lunga ricerca Beh ragazzi Vi faccio così Lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi per O per dirvi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao